Torniamo in diretta e abbiamo con noi René Capovina, direttore del Musil, buonasera, che conosciamo bene, ma questa sera con noi anche Andrea Batteucci, vicepresidente dell'associazione Retro Campus, buonasera, e con noi anche Carlo Sant'Agostino, segretario dell'associazione Retro Campus e anche uno dei curatori della mostra, buonasera, torniamo a parlare del Musil, ma in modo particolare di un qualcosa che possiamo vivere in centro a Brescia, esattamente che è la cosa più caratteristica perché questa volta non siamo nelle valli pur magnifiche, Val Gamonica o inizio della Val Trompia, siamo proprio in centro a Brescia e proponiamo una mostra costruita con un partner importante di natura culturale che è l'associazione Crespi Dadda, è l'associazione che gestisce il sito UNESCO di Crespi Dadda con cui abbiamo impostato questa mostra che vede il coinvolgimento di almeno altri due soggetti, Magnetic Media che è un soggetto privato che ha sostenuto anche economicamente il progetto finanziato da Fondazione Cariplo e l'associazione Retro Campus che è qui fortemente rappresentata questa sera, che è un'associazione con cui noi collaboriamo da vari anni e che è attiva appunto nella raccolta e rimesse in funzione di materiale informatico retro, di questo poi parleranno meglio. Certo, però giusto per dare una dritta siamo e saremo nella ex cavallerizza, quindi siamo in via Cairoli al numero 9 a Brescia, l'inaugurazione è stata fatta venerdì e per riuscire a vivere il tutto che adesso appunto andremo a scoprire è? Allora lo spazio appunto ex cavallerizza è aperto sabato e domenica dalle 2 alle 7 e sarà aperto anche il primo novembre fino al 12 novembre. Poi saranno disponibili visite guidate gratuite per scuole, gruppi che lo chiedessero, ne hanno già fatto richiesta vari istituti cittadini perché il tema ovviamente incontra l'interesse anche di insegnanti e studenti. La mostra in questione è Computer Stories, scene da un passato prossimo, ovvero da Alan Turing a Steve Jobs, giusto? Corretto, sì. Me ne volete parlare? Sì, la mostra è stata organizzata, come diceva giustamente René, grazie all'aiuto e al contributo dei finanziamenti che sono arrivati per Brescia e Bergamo, capitali della cultura. Infatti la mostra è stata inaugurata prima nel territorio della provincia di Bergamo e poi nel territorio qua di Brescia attualmente dove è attualmente visitabile. Per la prima volta forse si è riusciti noi come associazione Retro Campus da tanti anni promuoviamo esposizioni, mostre, tematiche eccetera, già col Musi l'abbiamo avuto modo di collaborare diverse volte per diversi anni, ricordo anni fa che avevamo fatto la mostra dedicata alle prime sperimentazioni digitali di Andy Warhol sui computer. Però stavolta, per la prima volta, forse si è riusciti a dare un senso, cioè quindi una rappresentazione museale e quindi un percorso storico su quella che è la storia dell'informatica. La storia dell'informatica è una storia recente perché stiamo parlando di una scienza che non è antichissima, alla fine nasce storicamente durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi ha poco più di 50 anni se vogliamo. Quindi la storia dell'informatica però adesso ci si sta rendendo conto che è importante perché il mondo è stato profondamente cambiato dall'utilizzo dell'informatica, dei calcolatori, dei computer. Nel ventennio scorso abbiamo vissuto quella che era la rivoluzione digitale, quindi ha cambiato la società, l'economia, la nostra socialità. Tutti quanti oggi andiamo in giro con un computer in tasca che è milioni e milioni di volte più potente dei computer che usavamo solamente 30 anni fa o 40 anni fa. Con questa mostra quindi si tenta per la prima volta di proporre al pubblico in maniera semplice, in maniera strutturata, un racconto storico che parta dalle origini dell'informatica e la racconti in modo da far capire in così poco tempo quanto è cambiato e che cosa è successo in questo ambito. Come associazione Retro Campus, come giustamente ha ricordato prima René, noi ci occupiamo lo statuto dell'associazione è proprio quello della preservazione e divulgazione della storia dell'informatica e della storia del videogioco. Quindi tutti gli associati, tra cui qua abbiamo un ottimo rappresentante che è il nostro vicepresidente Andrea, si occupano in prima persona sia di salvaguardare dalla distruzione quello che si riesce insomma del passato dell'informatica, sia di rimetterlo in funzione, di raccontarne la storia e quindi di riuscire a far vedere come queste macchine funzionavano e come si utilizzavano. Infatti Andrea abbiamo proprio un laboratorio durante questa esposizione bresciana. Il laboratorio sicuramente è una parte chiave della mostra e il motivo per cui esistono macchine accendibili nelle nostre mostre, in questa in particolar modo ne abbiamo voluto mettere alcune iconiche, è perché un conto è vedere fotografie, leggere libri, guardare documentari sulla storia informatica, un conto è toccarla con mano. Anche perché, perdoni vice direttore, noi, io perlomeno che ho una certa età, io questa storia un po' la conosco, io mi ricordo le prime connessioni con il modem rumoroso, e poi cadeva la linea, e invece i giovani no, quindi è importante raccontarlo. Mi sono meravigliato in questi giorni, anche se un po' ce lo aspettavamo e ce lo auguravamo, nel vedere tutte le fasce di età interessarsi profondamente alla storia di queste macchine, ma in particolar modo i giovani. È l'obiettivo che noi perseguiamo da sempre, perché dobbiamo ricordare che generare malinconia è un effetto collaterale di avere queste macchine accese e lo possiamo fare nel momento in cui una persona che si interfaccia con una mostra di questo tipo ha già un vissuto tecnologico e ci ha già attraversato quella parte di digitalizzazione negli ultimi 50 anni, quindi per lavoro, per passione, si è un po' cimentata in questo mondo. Ma i giovani nascono in un mondo digitale, hanno già tutti gli strumenti pronti e funzionanti e non hanno la minima idea di come siamo arrivati a questo. Esatto, si stupiscono nello scoprire che magari anche dei semplici telefoni una volta non si sapeva chi chiamasse, bisognava dire pronto chi è per capire chi stava chiamando, anche cose di questo tipo, per non parlare appunto delle connessioni che andavano tramite il telefono nella mostra, nel laboratorio, abbiamo proprio un setup completo con un modem, uno dei primi, quelli ad accoppiamento acustico, quindi c'è la cornetta del telefono che si appoggiava proprio su un microfono per poter permettere a questi suoni che ha ricordato prima di trasmettere i dati e connettersi. Per non parlare dei costi esorbitanti delle connessioni, che adesso è un tutto incluso, ma una volta era... Adesso è un tutto incluso e abbiamo... Allora, l'evoluzione adesso dei dispositivi è quasi satura nel senso, allora i dispositivi di adesso hanno più cose di quelle che servono. Nel laboratorio ad esempio che abbiamo allestito in questa mostra c'è un intero tavolo, un setup intero per fare le stesse cose che si possono fare con un piccolo dispositivo tascabile. e abbiamo una differenza di tecnologia di 50 anni, ma facciamo le stesse cose. A me piace ricordare, come a chi viene a vedere questa mostra, mi piace ricordare alla fine della descrizione di questo banco di lavoro, di questo banco operativo, che tutto quello che si sta vedendo lo possiamo fare anche al giorno d'oggi e quindi siamo ancora sui passi di 50 anni fa, abbiamo solo cambiato le tecnologie, ma non lo scopo e soprattutto l'utilità di questi dispositivi. Noi andiamo in internet con questi computer, tanto allora quanto adesso abbiamo bisogno di... Sì, non era internet, era un'altra cosa. E non si chiamava bene. Non si chiamava internet. Poi, giusto per ricordare, c'è anche la storia del videogioco, c'è un intero angolo presente dove, oltre all'esposizione, abbiamo lasciato anche delle macchine d'epoca della storia del videogioco accese e è possibile utilizzarle, quindi a libero utilizzo. E lì si vedono molto spesso i genitori che accompagnano i figli, che dicono, ah, questo ce l'avevo, guarda, entusiasta, guarda com'era, eccetera. Si vede anche lì, in pochissimi anni, in 30 anni, che si è passati dalle barrette del primo videogioco popolare, cioè il Pong, con la pallina quadrata e le barrette, fino alla prima PlayStation, quindi con la grafica tridimensionale. Ed è successo in un tempo brevissimo, per questo è importante ricordarlo e mantenerle nella memoria, perché si tende a dimenticare molto velocemente quello che è successo in così breve tempo. Poi è anche vero che tutte queste cose si considerano vecchie nel momento in cui vengono superate da un altro apparecchio, da un altro macchinario, quindi si butta via, no? Esatto, sì. Non c'è quella tensione nel... Nel mondo del video game, ad esempio, possiamo ricordare che la maggioranza dei titoli disponibili sul mercato negli ultimi anni non sono altro che o un proseguimento o un remake di videogiochi di quell'epoca. Quindi c'è ancora bisogno, c'è ancora voglia di quei tempi. Sì, assolutamente. Ricordiamo magari che ci saranno gli eventi anche per il pubblico serali, dedicati quindi proprio degli eventi. trovate il calendario sia sul sito Retro Campus che sul sito della mostra di... Sito Retro Campus punto it? Sì, punto com. Sì, va bene, uguale. Computer Stories punto it. Punto it. È il sito della mostra. Esatto. Mostra che forse spicca da un punto di vista grafico. Si esce dal format pannello con spiega e oggetto. Sono dei pannelli tra l'altro costruiti su strutture Isinnova. Qui a Brescia è noto Cristian Fracassi, la ditta Easy Bricks che ha prodotto gli allestimenti è collegata a Isinnova. Quindi si parla di strutture abbastanza grandi e con un taglio potremmo dire pop. E l'effetto finale, considerato che la sala è monumentale perché la ex cavallerizza appena restaurata anche bene, l'effetto di questo tipo di installazione è un po' surrealista perché abbiamo un contrasto molto forte tra il linguaggio fortemente contemporaneo degli exhibit e lo spazio insomma serio e monumentale della cavallerizza. Quindi anche questo è un elemento di interesse. Io devo scusarmi ma devo chiudere perché ho dei tempi tassativi. Capiamo. Però è stato molto piacevole ripercorrere un po' con voi anche i momenti vissuti. Ringraziamo quindi il direttore del museo René Capovine e poi ancora Carlo Sant'Agostino e ringraziamo anche Andrea Batteucci per essere stato con noi. Mi perdoni. Grazie ancora. Termina qui il nostro spazio ma prima di salutarci salutiamo la nostra telespettatrice Emanuela che come sempre ci invia uno scatto. Lo scatto del giorno ci riporta a Desenzano quindi dei nostri telespettatori. Noi domani torniamo parlando con Anna Tripoli presidente dei Giovani Imprenditori e poi ancora con gli amici della Poliambulanza e si parla anche di cinema con il nostro critico cinematografico Enrico Danesi. Domani alle ore 18 tra poco Renato Androlassi con Punti di Vista. Buona serata da Andrea Lombardi. Grazie.